Degustazioni d'alta quota per gli studenti del Master in Cibo e Vino dell'Università di Caffoscari. Per loro, giornata sulla neve scoperta del territorio. Ci racconta tutto Ivana Godenik. Siamo praticamente a mezz'ora da Treviso, dunque vicino ai grandi centri e speriamo che andando avanti si possa sviluppare anche quest'area qua. Questa è una zona ancora tutta da scoprire. Volete scoprire i tesori segreti del nostro territorio? Venite con noi. L'invito è chiaro, l'obiettivo è quello di promuovere il territorio. In questo caso la marca trevigiana è il comune di Miane, località Posa Puner. L'idea per una domenica diversa da passare in mezzo alla neve, restando però vicini ai centri cittadini per assaporare i gusti e l'eccellenza dei prodotti veneti, a promuovere l'iniziativa Il Master in Cultura del Cibo e del Vino Caffoscari assieme a tutti i partner. Gli studenti hanno l'occasione di esercitarsi a creare un evento, quindi entrare nella pratica di quello che stanno imparando nelle aule, che è la cultura del cibo e del vino, applicando alla cultura del cibo e del vino un'occasione aperta al pubblico. Quindi quale miglior possibilità se non esercitarsi di fronte a questi appassionati della montagna. Siamo entrati proprio nel vivo della creazione dello stand con i prodotti tipici, quindi comunque è stata una giornata positiva. Quello che studiamo normalmente in aula lo applichiamo finalmente anche stando in mezzo alla natura, stando in mezzo ai nostri prodotti. E la parte sportiva dell'evento ha avuto un testimone ad eccezione. Un bel tracciato in mezzo alle malghe, preparato bellissimo, ai giovani o anche meno giovani che hanno voglia di passarsi un sabato o una domenica, diciamo che penso che sia il massimo per un cittadino.